Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita Episodio un po' particolare Prendo lo spunto che mi ha fornito commentatore video E vi racconterò un po' di come nella scorsa stagione ho modificato la mod Home Decon Per avere una caratteristica in particolare per la plastica La plastic base per risparmiare spazio nell'inventario Se non avete per caso seguito la scorsa stagione di Mindtest Ita In pratica avevo creato una mod che da 9 pezzetti di plastica mi desse un pezzetto di plastica compressa E col pezzetto di plastica compressa ti potesse riportare ai 9 pezzetti di plastica base E allo stesso modo avevo fatto anche la plastica compressa due volte e la plastica compressa due volte Prendendo spunto da quello che era una mod che conoscevo per Minecraft Che faceva la stessa cosa con la cobblestone Quindi andremo a vedere un attimo delle piccole operazioni di base per interagire sulle mod Come potete vedere qui ho una cartella in particolare la cartella di installazione di Mindtest 0.4.12 La versione che avevo per la scorsa serie E dentro la cartella mods che conoscerete perché è dove si piazzano le cartelle delle varie mod Andiamo nella home decor Ogni mod in pratica su Mindtest è strutturata a partire da un file init.lua che vedete qua Sono tutti dei file lua, lua è un'estensione particolare del cpp che è particolarmente indicata per quanto riguarda la programmazione di video giochi E in particolare Mindtest appunto utilizza il lua Il file init.lua per quanto riguarda le mod piccine ha in sé tutta la mod Diciamo che all'interno ci sono gli oggetti craftabili, gli oggetti che sono all'interno di quella mod E i vari funzionamenti della mod Viene in pratica tutta la mod là all'interno La home decor invece è una mod abbastanza grande come anche altre come la tecnica eccetera eccetera Con tanti oggetti al suo interno, tanti macchinari, tanti crafting eccetera eccetera E quindi dentro la init.lua a parte la prima parte che definisce altre questioni Si tratta semplicemente di un'esecuzione di altri file.lua Tutti questi due file che vedete, due file, due file, due file eccetera eccetera Aprono a loro volta degli altri file.lua che eseguono parti differenti della mod In modo da avere tutto più ordinato Ovvio si potrebbe mettere tutto dentro il file init.lua Ma sarebbe un gran macello con mod grandi Perché sarebbe un disordine completo per capire dove devi andare a vedere, che riga eccetera eccetera Noi in particolare vedremo oggi il file crafts.lua Che è quello che ho utilizzato nella scorsa stagione per andare a modificare la plastica Sono andato a interagire con la home decor Principalmente per il fatto che la plastica viene definita all'interno della home decor Se tu devi utilizzare in una mod un oggetto In una mod nella descrizione, nei file della mod Un oggetto o un crafting che è stato definito in un'altra mod Devi avere nelle dipendenze con la mod Quindi è tutto molto più complicato Non particolarmente, cioè non assurdamente complicato Però devi fare del lavoro in più Quindi ho detto, visto che la plastica è là, piuttosto che creare altre cose Che mi richiedano più tempo Scusa, mi sta venendo sonno adesso che devo registrare Eeeh Sono andato ad agire sulla home decor E quindi sul file crafts.lua Perché in particolare il crafts.lua nella home decor Almeno nella home decor della 0.4.12 Era il file dove c'erano tutti i crafting e gli oggetti craftabili Come potete vedere ci sono delle funzioni che vengono utilizzate In particolare due funzioni andremo a utilizzare e vedere oggi Che sono la mindtest.registerCraftItem e la mindtest.registerCraft La prima, questa mindtest.registerCraftItem Registra l'oggetto craftabile Nel senso lo definisce Dice a mindtest che esiste quell'oggetto che è definito così E si chiama così Per aprire i file.lua Mi sono scordato di dirlo Basta un qualsiasi editor di testo Va bene anche il blocco note Io in questo caso uso notepad++ Che mi è comodo perché aggiunge delle cose Tipo le righe Il numero della riga E evidenzia in un modo particolare le varie Scusatemi davvero Le varie parti del codice Per esempio questo è un commento, è verde eccetera eccetera Quindi è un pochettino più chiaro anche da vedere Dicevo, la craft item definisce l'oggetto In questo caso sta definendo l'oggetto terracotta base Che fa parte della mod home decor Perché le mod in mindtest funzionano così Gli oggetti vengono definiti prima con Nome della mod, due punti, nome dell'oggetto In modo che appunto quando devi andare a prendere quell'oggetto Sai dove andare a cercarlo, in che mod Description ci dice appunto la descrizione di quell'oggetto E quella che si vede nell'inventario In questo caso è stato scritto Uncooked terracotta base E l'inventory image è il link Al file Della texture In questo caso un file png Ma in generale mi pare che su mindtest si utilizzino sempre dei png Per le texture Che appunto Si chiama home decor terracotta base Andiamo a vedere ora la funzione per il crafting La funzione per il crafting inizia con il tipo di crafting Che in questo caso è shapeless Shapeless è quello nell'inventario Cioè quando apri l'inventario hai la griglia di crafting Quello è il shapeless Mentre invece ci sono altri tipi di crafting Che sono per esempio il cooking Che possiamo vedere qua più in basso O altri tipi che possono essere definiti da altre mod Per esempio nella tecnica abbiamo il grinder Abbiamo il compressor Abbiamo l'alloy furnace Che hanno dei metodi loro di crafting Nel senso che per esempio Grindando avrà il type grinding Se non sbaglio L'alloy furnace ha il tipo smelting Forse una cosa così In questo caso si tratta di una shapes Quindi nell'inventario si fa Scusate davvero Poi ci dice l'output Cioè che cosa otterremo Qui otteniamo terracotta base Della mod home decor Nel numero di 8 Spazio 8 vuol dire che Ne otteniamo 8 Quando non viene indicato quanto ne indichiamo Viene indicato solo terracotta Home decor Do punti terracotta base Chiuso virgolette Vuol dire che ce ne da una unità Quella ricetta Recipe mette appunto la ricetta Che indica tra le parentesi graffe Divise da virgola I vari oggetti che servono In questo caso default dirt Default clay lamp E bucket bucket water In più questa è una ricetta particolare E' interessante perché c'è anche replacement Cioè per fare la terracotta Prendi il secchiello d'acqua E lo sostituisci con il secchiello vuoto Perché altrimenti fosse stato Semplicemente come indicato qua sopra Senza il replacement Avrebbe consumato anche il secchiello Senza darti indietro il secchiello vuoto Andiamo ora più in giù Per la parte dove sono andato ad agire io Quello là era un attimo esemplificativo E' una parte che c'era già nella mod E su cui non ho agito In questa parte qua abbiamo un blocco Come potete vedere Di definizione di oggetti craftabili I primi due erano già presenti nella mod Che sono la plastic sheeting Cioè i fogli di plastica E il plastic base Che è la plastica non processata Non cotta Con la varia descrizione L'inventory mage In questo caso anche la wield image Wield image è la texture Che appare quando la impugniamo Quando il giocatore la impugna E' una texture in generale Diversa da quella dell'inventario Però non sempre Gli altri oggetti che sono stati aggiunti Sono quelli che ho creato io Che ho chiamato Plastic Compressed 1 Con descrizione 1 per Compressed Plastic Vield image Ho ottenuto lo stesso Inventory image Ne ho creata un'altra Che dopo vi farò vedere Quando parleremo delle texture Ho fatto lo stesso Per la plastic compressa 2 Cioè per quella compressa 2 volte E per quella compressa 3 volte Perché in pratica Ho creato Un oggetto La plastica compressa una volta Che da 9 blocchi di plastica Ti da un Cioè da 9 oggetti di plastica Ti da un Un solo Oggetto di plastica compressa una volta Poi ho la La plastica compressa 2 volte Che da 9 di Compressa una volta Ti da una Compressa 2 volte E da 9 Compressa 2 volte Ti da la plastica compressa 3 volte In questo modo Risparmi molto Inventare Perché da Un blocchetto Di plastica compressa 3 volte Se lo Ricambi di nuovo In plastica compressa 2 volte Te ne da 9 Ognuno di quei 9 Te ne da 9 Di compresse una volta Quindi sono 9 per 9 81 Di compresse una volta E ancora per 9 per ottenere la plastica Quindi vedete che all'incirca abbiamo A spanne 8 stack di plastica Contenuti in un solo Oggetto di plastica compressa 3 volte Questo è stato utile nella scorsa stagione Perché avevo una farm di alberi In cui ottenevo tantissime foglie Quindi per Non andare a buttare tutta quella plastica Che andavo a creare Ho modificato questa mod Per convertirla in plastica compressa E per mantenerne il più possibile Cioè per mantenerla tutta Perché appunto Occupa davvero pochissimo spazio Rispetto all'altra E poi dopo Sono andato ad aggiungere anche i crafting Vabbè questo qua è il crafting Del plastic base Che esiste già In i mind test standard E su cui non sono andato ad agire Ho aggiunto Questi altri 3 crafting Type Shapeless Perché era un crafting Si focaceva nell'inventario Io in particolare utilizzavo degli auto crafter Che utilizzavano il crafting Shapeless Come output In questo caso è Un'unità di Plastic compressed 1 Un'unità perché non c'è scritto il numero E la ricetta è Semplicemente 9 pezzi di home Decor plastic base Se per caso Noi avessimo voluto fare Una ricetta Che aveva degli spazi vuoti All'interno Cosa che non abbiamo visto prima Per esempio Plastica 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 Spazio 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 Plastica 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 Sarebbe stato necessario mettere le virgola Senza niente dentro Per esempio Home decor plastic base Virgola Home decor plastic base Virgola Home decor plastic base Virgola 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 home decor plastic base virgola, home decor plastic base virgola, home decor plastic base virgola e in questo caso il computer avrebbe capito i tre slot sopra il bisogno della plastica, i tre slot in mezzo non niente i tre slot in fondo plastica seconda cosa qua ho scritto il crafting inverso sempre di tipo shapeless che da come output nove pezzi di plastic base mettendo un cubetto, un oggetto di plastic compressed 1 cioè da una plastica compressa una volta ti da nove plastic base che è l'inverso della recipe precedente allo stesso modo l'ho fatto per la plastica compressa due volte che ha come recipe nove compresse una volta e al contrario appunto una di compressa due volte ne da nove di compressa una volta lo stesso per la compressa tre ci da una compressa tre da nove compressa due e da una compressa tre ci da nove compressa due e questo è quello che riguarda il codice passiamo a parlare delle texture in generale in tutte le modi c'è una cartella texture o comunque una cartella dove sono contenute le texture in questo caso nella home decor c'è la cartella texture che di base è quella che il programma aveva come impostata quando andiamo a indicare la texture cioè quando noi diciamo il nome dell'oggetto lui si aspetta che sia il contenuto nella cartella texture se fosse stato in un altro indirizzo avremmo dovuto mettere l'altro indirizzo che ne so, avremmo dovuto specificare che era nella cartella sounds o nella cartella locale qui andiamo prima a vedere le due texture che erano presenti quella per l'oggetto impugnato e per l'oggetto nell'inventario questa qua è la plastic base forse non la vedete perché qua è piccina ma se zoomiamo questa qua è l'oggetto per la plastic base quando è tenuta in mano io ho utilizzato questo per tutte e tre anche quelle compresse perché era comodo quando è in mano per me andava bene che avesse lo stesso aspetto non volevo complicarmi la vita per l'inventario invece questa qua è quella di base ma là avevo voglia di avere delle texture diverse perché quando sei nell'inventario altrimenti rischi di non capire qual è quella compressa e qual è quella non compressa e far confusione tra le due la descrizione che ho indicato poteva servire allo scopo di distinguere quale fosse quella compressa da quella che fosse non compressa ma devi sempre passarci il mouse sopra per capire che oggetto è quello mentre a un primo sguardo non era comprensibile allora sono andato a fare delle copie di questo file png e a modificarle con gimp che è un programma super potente di fotoritocco gratuito e open source se non conoscete che ha funzionato alla grande per lo scopo anche perché non ho fatto granché di complicato cosa ho fatto? ho aggiunto un 1x1 per compressed per quella compressa due volte ho messo un 2 per quella compressa tre volte ho messo un 3 le texture non sono bellissime ovviamente perché ho messo giusto un numero sopra non ho cambiato niente non ho fatto una texture bellissima l'oggetto non appare visivamente diverso ma tanto era una moda semplicemente funzionale non era una moda estetica era una moda semplicemente che mi serviva per risparmiare spazio e avrei perso tempo inutilmente facendo delle texture belle perché tanto non era funzionale allo scopo quello di avere delle belle texture per l'oggetto mi bastava benissimo di avere una texture funzionale che andasse bene per quello che era il mio scopo esatto e quindi ho dato i tre nomi che sono home decor in questo caso tre per compressed plastic inv punto png perché ha l'estensione png ed è infatti quella che andremo a trovare qua nella inventory image home decor tre per compressed plastic inv punto png in generale per andare a interagire sulle mod io vi consiglio di leggere 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 e provare a capire come funziona anche io qua sono andato a leggere le altre descrizioni dei crafting e sono andato ad agire di conseguenza su internet in più c'è anche una wiki che può aiutarvi per questo se per caso foste interessati ad agire sulle mod e altro grande consiglio fate dei backup dei file che utilizzate perché andando ad interagire su questo se cancellate delle cose o modificate le altre cose potrebbe non funzionare più la mod e dovrete sostituire il file che c'è se c'è qualcosa che non funziona lo scoprete dal gioco nel senso che qua scrivete programmate poi aprite il gioco vedete cosa succede se funziona effettivamente com'è è un po' alla caccia dei bug fate i beta tester di voi stessi come ho modificato questa mod tempo addietro avevo anche modificato quella del farming per aggiungere delle piante in più perché all'epoca avevo un problema diverso chi ha guardato tutta la prima stagione lo saprà avevo la mod food che aveva degli oggetti per esempio le torte che avevano bisogno di uova e latte ma non avevo la mod degli animali perché era molto bugata e quindi avevo deciso di non metterla al che per ovviare la mancanza di oggetti e non dovermele givare ogni volta con la creative ho deciso di creare delle piante di uova e di latte che sono assolutamente assurde però hanno funzionato benissimo fin tanto che l'ho tenuto e poi a un certo punto ho cambiato la mod non mi ricordo più forse l'ho cancellata ho fatto degli aggiornamenti e altra cosa è lo stesso procedimento che ho utilizzato cioè andare a leggere il codice capire cosa faceva che cosa per agire sulla technique perché nella scorsa stagione ho modificato alcuni parametri per esempio del query per esempio per l'output di alcuni macchinari e di alcuni generatori per adattarli a quello che serviva nel nostro mondo nella nostra stagione di video su youtube io spero che il video vi possa essere stato utile che non sia stato troppo lungo e noioso che vi sia stato chiaro se per caso fosse stato così vi invito a lasciare un mi piace se per caso non fosse stato così potete lasciare un commento con quello che non vi è stato chiaro io come al solito amo tantissimo rispondere ai commenti quindi risponderò il prima possibile e questo è quanto noi ci vediamo nel prossimo video di MindTest o nel prossimo video in generale buona giornata a tutti ciao buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti